e proseguiamo ora mi raggiungerà qui in postazione Gianluca Rocchi il responsabile della Can e la commissione arbitri nazionale di serie A serie B tra l'altro stanno arrivando veramente tantissime domande le sto raccogliendo e come detto al termine di questo primo giro di interventi i relatori vi risponderanno in diretta Gianluca raggiungimi pure qui in postazione ciao a tutti buonasera la tua parte verterà sulla storia questa è la parola che hai scelto e farai un po' un escursus sulla storia dell'arbitraggio così sì ciao grazie Federico buonasera a tutti grazie al presidente per questa bella premessa e niente buonasera ragazzi come vi ha detto il presidente mi aggrego immediatamente al suo invito a a godere di questa esperienza che andrete a fare a essere fieri di ciò che andrete a fare perché comunque state cercando di mettere in pratica un'esperienza veramente nuova credetemi fare l'arbitro un'esperienza che vi porterà a avere risultati che non avete nemmeno idea al di là delle qualità tecniche dimostrerete sul campo avrete la possibilità di essere ragazzi diversi persone che si prendono responsabilità e negli anni vedrete queste esperienze vi rimarrà utile per tutte le cose che farete nella vita quindi come ho sempre detto a tutti i ragazzi che mi chiedevano il perché avrebbero dovuto avvicinarsi a questa attività ve lo dico anche a voi è un'esperienza di vita bellissima formativa al massimo e che vi farà fare un percorso sono convinto estremamente importante perché voglio parlarvi della storia perché credo al di là che io sono un amante della storia in generale ma credo che tra poco voi scenderete sui terreni di gioco e quindi andrete a svolgere il ruolo da arbitro ma anche se non ve lo siete mai chiesti magari mi fa piacere dirvelo a me chi siete che cosa rappresentate e perché fate l'arbitro a di là delle vostre scelte che sono chiaramente legate a mille motivi chi avrà deciso di fare l'arbitro perché è innamorato del calcio perché magari gioca a calcio e continua a giocare a calcio e vuol fare un'altra esperienza però dovete sapere che l'arbitro in questo caso come abbiamo titolato la presentazione dei referi che è nel regolamento del gioco del calcio originale in inglese è la low five la regola 5 l'arbitro è il referi cioè il riferimento di ciò che succede su un terreno di gioco per cui dovete sapere che voi la prima partita che andrete in camp che diciamo la prima gara che voi andrete a dirigere sarete riferimento di un sacco di persone molto più di quello che voi pensate molto più degli undici calciatori per squadra ma saranno i dirigenti saranno gli allenatori ci sarà un sacco di persone che vi guarderanno da fuori e quindi sarete riferimento pensate e qui parliamo alla storia che quando nasce il calcio quindi si parla di ormai 150 anni fa oltre l'arbitro non esiste cioè le squadre giocano senza un direttore di gara e chiaramente il gioco del calcio aveva un approccio diverso erano partite tra amici o comunque conoscenti o anche se non conoscenti persone che si trovavano in un campo per disputare una partita a un certo punto come ben capite le diatribe le discussioni erano molto molto alte quindi si decide pensata di iniziare con due arbitri ed è un esperimento che poi negli anni è stato riprovato a funzionare ma non scusate è stato riprovato a diciamo a provare ma non siamo riusciti a avere un risultato buono nasce con due arbitri per un motivo molto semplice perché ogni squadra portava il suo arbitro quindi era un'esperienza particolare e si capisce già da lì che serve qualcuno dall'esterno che dia le regole che detti il tempo del gioco che faccia rispettare le norme è chiaro non ti devi spieghi che dopo un po' si capisce che un arbitro per parte comunque sempre una forma parziale purché quando si parla di calcio britannico sapete che la filosofia la mentalità è sempre molto più sportiva del nostro tanto per essere chiari però si capisce che due arbitri uno per parte non erano la giustizia vera e quindi si decide di affidare l'incarico di referì a un arbitro centrale e da lì che si comincia le prime novecento a vedere questa figura che è una figura nuova che è una figura completamente terza chiaramente all'inizio non ha una struttura come abbiamo oggi ma una figura che viene chiamata per dirimere le discussioni del campo considerate che è la stessa cosa che farete voi perché come sapete nelle categorie inferiori nei piccolini gli arbitri sono dirigenti delle società di calcio quindi non c'è bisogno di una figura terza come si sale un po' e si arriva per esempio già la categoria giovanissimi che è quella che voi affronterete come prima categoria le partite cominciano ad avere un'importanza incredibile e serve uno di voi per far rispetto alle regole questo è il motivo per cui diciamo nasce l'arbitro e vi faccio fare un percorso perché mi piace farlo fare pensate che da quando diciamo si parla di arbitro singolo ad oggi il cambiamento della figura arbitrale è drastico è completamente rivoluzionata però pensate che nei primi cento anni di arbitraggio 90 anni di arbitraggio la figura rimane sempre la stessa che è quella che adesso vi farò vedere cioè dell'arbitro solo vi prendo l'esempio credo del numero uno intanzitutto vi faccio vedere che cos'è l'arbitro da regolamento poi parleremo del singolo arbitro l'arbitro è la regola 5 la troverete sul regolamento e l'avrete studiata ci sono tanti aspetti e tanti doveri che ha l'arbitro ma ce n'è uno l'ho messo in rosso per quello perché oggi non è più come prima oggi si dirige una gara in collaborazione con gli altri ufficiali di gara chiaramente assistente assistenti di porte ma questo quando si parla di categorie superiori voi inizierete da soli e in questo percorso avrete sicuramente la soddisfazione se sarete bravi di raggiungere partite dove invece avrete gli assistenti di parte io ho messo guardaline ma in realtà sono assistenti in tutti gli effetti e gli assistenti di porta sono quelli che troveremo nel percorso vi ho messo questo questa questa norma diciamo regola 5 perché quella che voi dovete leggere confrontare capire dal primo momento ok chi era l'arbitro prima di tutto il cambio delle norme l'arbitro è questa figura qua voi non lo conoscete comunque concetto lo bello è l'arbitro per eccellenza ed era una figura mitica quasi direi immaginatevi questa persona negli anni 40 50 40 60 70 e guardate la prima cosa che vi viene in mente come mi auguro vi venga in mente l'eleganza che ha la figura dell'arbitro ecco su questo io ve lo dico non vale io vorrei che tutti gli arbitri ragazzi nostri lo sanno me la penso tutti gli arbitri avessero questa eleganza di questa foto questa foto è bellissima rappresenta un calcio di un altro tempo però la figura arbitrale è la cosa più bella di questa fotografia vedete che immagine di pulizia credibilità fermezza classe ed eleganza trovate in questa foto qui l'arbitro era da solo come esattamente sarete voi dalla prima partita che andrete a fare aveva già due assistenti ufficiali chiaramente perché si parla di una gara internazionale però la figura dell'arbitro era solitaria senza auricolari senza bandrine elettroniche senza tutto quello che oggi invece farvi vivere la partita da squadra quindi l'arbitro nei primi 80 90 anni della sua esistenza vive da solo questo per farvi capire che quando tenete in campo non riporterete altro che sul terreno di gioco quello che è lo spirito per cui nasce il referì l'arbitro poi si comincia arrivare vicini agli anni 2000 si comincia aggiungere delle figure che sono fondamentali per le partite del calcio moderno perché nasce il quarto ufficiale oggi lo vedete quello col cartellone voi lo immaginate in quello che nella figura in cui leggete o le sostituzioni ma soprattutto i minuti di recupero se avete visto il mondiale era una figura molto importante perché i minuti recupero erano ampi e importantissimi in realtà il quarto ufficiale dovete sapere nasce per sostituire un infortunio eventuale dell'arbitro degli assistenti e anche oggi ha esattamente la stessa funzione è chiaro che sviluppandosi ampliando il suo raggio d'azione oggi il quarto ufficiale ha tutti gli effetti un quarto arbitro per cui ha tutti i poteri dell'arbitro principale a tutti i poteri dell'assistente ufficiale e quindi oltre a segnalare il recupero che è semplicemente un dato oggettivo la figura del quarto ufficiale è proprio la riserva ufficiale dei arbitri dei assistenti e pensate fino all'89 questa figura ufficiale non era presente sul terreno di gioco come arbitro andando avanti trovate troverete per chi avrà la fortuna di arbitrare velocemente in categorie nazionali la banderina elettronica quindi immaginatevi fino al 1996 io già arbitravo le partite con gli assistenti non avevo le banderine elettroniche quindi avevo una banderina normale sapete giustamente vi devo spiegare che cos'è l'arbitro ha un ricevitore su uno dei due bracci e ha praticamente l'assistente ha un bip sulla banderina e segnala la segnalazione oltre a l'arbitro arriva una liberazione pensate che bisogna aspettare 1996 per avere questo tipo di supporto oggi a pensarlo viene quasi da sorridere all'epoca fu una grandissima innovazione perché da arbitro centrale solitario come ripeto sarete voi all'inizio avevate già qualcosa o qualcuno che vi sollecitava o che vi dava un aiuto importante andando sempre avanti arriva una delle più grandi innovazioni che secondo me personalmente l'ho provata da sia la fase pre la fase post che è quella degli auricolari oggi a pensarci voi giustamente vedete il calcio magari da non tantissimi anni l'auricolare l'arbitro vi sembra una cosa normale sappiate fino al 2007 quindi non si parla di 30 anni fa ma 15 anni fa gli arbitri erano non si potevano parlare in campo si potevano comunicare solo attraverso come vedete le immagini in basso e vi ho messo tra un confronto diretto non c'era un confronto aperto tra microfono per cui capite bene che la svolta di questo auricolare è fondamentale apre il mondo della comunicazione all'arbitro in campo e questo aspetto della comunicazione lo ritroveremo in tanti altri aspetti inutile spiegarvi che lo ritroviamo chiaramente sulla var e sulla tecnologia ma gli auricolari sono la prima e vera forma di comunicazione in campo andando più avanti si capisce che gli arbitri in campo pur con gli auricolari pur con le bandiere elettroniche con supporto del quarto ufficiale in quattro non bastavamo e quindi nel 2012 prima un percorso che parte dal 2009 come esperimento e dal 2012 come diciamo decisione ufficiale anche da parte della federazione del gioco calcio gli arbitri sul terreno di gioco diventano sei per chi magari di voi non è giovanissimo forse se lo ricorda marginalmente ma per alcuni anni avete visto cinquine in campo non più poterne o quaterne cioè arbitro quarto ufficiale assistenti e due arbitri detti addizionali d'area che erano sostanzialmente due arbitri in più dietro le porte e che dovevano comunicare via auricolare un eventuale fallo o un qualsiasi cosa sfuggito al controllo dell'arbitro quando ci fu questa innovazione io ero in campo vi garantisco fu un bello scossone perché già eravamo passati per un breve periodo a provare a avere due arbitri in campo cioè tornare all'origine due arbitri sul terreno di gioco però capite bene si era capito che era molto complesso mettere due soggettività cioè due figure due persone sul terreno di gioco in questo caso addirittura le persone che hanno interpretazioni sono tre arbitro e arbitri di porta e questo fa capire quanto sia difficile avere sullo stesso terreno di gioco tre arbitri pur dello stesso livello della stessa qualità adesso ne conoscerete alcuni dei top che abbiamo che non tutti hanno la stessa sensibilità e la stessa capacità ma soprattutto la stessa visione di un episodio quindi anche questo esperimento pur innovativo pur evoluzionario dopo un po' si capisce che non è sufficiente a colmare la lacuna o soprattutto andare incontro alle esigenze che la televisione e gli sportivi ci chiedono in continuazione e fino ad oggi ancora qui non c'è nessuna invadenza della tecnologia nel terreno di gioco è tutto sono tutte decisioni lasciate esclusivamente all'occhio umano il primo vero passaggio fondamentale alla tecnologia è questo il 2015 il primo esperimento viene fatto in un mondiale per club in giappone si decida di dare di passare la gestione del gol non gol a una macchina vi aggiungo fortunatamente perché vi dico che per quanto mi riguarda andare su un terreno di gioco rischiare un gol non gol perché fisicamente non riuscivi a vederlo potevi essere il miglior assistente del mondo il miglior arbitro del mondo fisicamente un pallone a velocità altissima non riusciva a vederlo sappiate che voi cari ragazzi invece dovrete confrontarvi anche con questa difficoltà vedere se il pallone o meno entrato però non vi nessuno vi metterà mai in croce per una decisione del genere nel calcio professionistico se si capisce l'esigenza dell'inserimento della tecnologia il primo vero inserimento è questo il 2015 per cui gli arbitri grazie a uno strumento grazie a sette telecamere posizionate sopra ogni porta ogni porta indossano un orologio a questo orologio viene dato un segnale nel caso del gol sia la palla sia entrata in rete arriva anche qui una vibrazione che ti dice che il gol è entrato e quindi il gol è entrato e quindi il gol va convalidato capite bene per chi arbitra in serie a o in serie b o in campo internazionale avere una possibilità di non decidere su una cosa oggettivamente vi garantisco impossibile da vedere ti dà una tranquillità una sicurezza fondamentale ecco dal 2015 quindi stiamo parlando di sette anni fa a oggi cari ragazzi è cambiato il mondo cioè l'arbitraggio è completamente stravolto vi ho fatto vedere un percorso importante ma con degli aiuti sempre personali cioè sempre delle persone dal 2015 si capisce che l'occhio umano l'essere umano non è sufficiente a colmare le richieste che vengono fatte per cui nel 2017 dopo un'invadenza profonda di tutti i media pressione e così si decide di arrivare a questo a questo strumento che è la video assistenza in l'acronimo di video assist referee sostanzialmente la var che conoscete tutti ed è il vero il vero cambio radicale perché oggi l'arbitrare con una tecnologia con qualcosa da esterno cambia oggettivamente la vita cambia la vita perché dalla possibilità ai ragazzi di rivedere un'immagine subito dalla possibilità ai ragazzi di non commettere i grossolani ma soprattutto che è la cosa fondamentale e non mi stancherò mai di dirlo rende il calcio più corretto perché oggi il 95 per cento delle decisioni vengono sbagliate vengono corrette corrette con questo strumento straordinario sappiate magari avete sentito dire finché non siete diventati arbitri e qualcuno magari amico non amico vi racconta che qualche arbitro è contrario alla tecnologia non esiste un arbitro che è contrario alla tecnologia lo capirete dopo le prime tre quattro partite che farete quando sarete andati in campo tre o quattro partite di fila avete fatto qualche errore direte fra voi ma se avessi qualcuno che mi fa rivedere che è successo voi ahimè non l'avete all'inizio lavorate per arrivarci perché vi garantisco che con la tecnologia si risparmiano un sacco di figuracce vado avanti vi faccio vedere quest'ulteriore passaggio in avanti lo vedrete a breve anche in serie a perché stiamo lavorando tantissimo su questo aspetto grazie alla tecnologia grazie a un supporto ulteriore della tecnologia riusciremo a dare il semi un fuorigioco semi automatico che vuol dire che ci sarà il var quindi ci saranno degli arbitri a valutare ma lo strumento ci darà la possibilità di presentare una figura tridimensionale l'avete visto probabilmente mondiali l'avete visto in champions league quindi anche la serie a si doterà di questo straordinario strumento sappiate che anche con questo straordinario strumento è fondamentale avere arbitri e var preparati quindi la macchina un supporto ma non sostituisce mai e poi mai la figura arbitrale quindi la fase soggettiva rimarrà fondamentale è chiaro ragazzi che oggi è un modo diverso di arbitrare quindi se io ripenso a quando iniziato io in seriale 2003 quindi una vita fa e me era un arbitraggio oggi è tutto un altro modo di intendere l'arbitraggio ma non sul campo sul campo invece dobbiamo continuare a decidere come se niente fosse è il fuori che ti dà questa possibilità qua e quando vedete un arbitro a un monitor come in questo caso sappiate che è qualcuno che si mette in grandissima discussione è un momento molto difficile ma è un momento che ti permette di evitare ripeto errori figuracce ma soprattutto di incidere su qualche risultato come sapete un ulteriore aiuto agli arbitri è quello che vi vedete qua che è la var center che è la nostra casa dei var che è a lissone dove tutte le partite di serie a sono trasmesse dove i ragazzi lavorano tutte le settimane e da qua riusciamo praticamente a coprire tutte e dieci le gare di serie a e molte gare di serie b cosa ci permette questo grandissimo sito dove noi lavoriamo ci permette di avere una un posto dove poter lavorare fare gli incontri domani per esempio faremo un incontro solo specialist specialistico per i var e in più ci permette di lavorare in un posto dove ci possiamo confrontare all'istante dove possiamo utilizzare var senza problemi senza dovergli fare viaggi assurdi ma soprattutto è un modo di lavorare totalmente diverso e questa è la sala che tendenzialmente utilizziamo noi della commissione perché qua in questi monitor che vedete ci siamo ci sono tutte le partite in contemporanea e noi possiamo valutare le varie decisioni e come i var stanno lavorando e come gli alberi stanno lavorando sullo sfondo là con i vetri trasparenti vedete una delle sale che i ragazzi utilizzano tutte le settimane e ripeto posso dirlo con molta tranquillità e credo che sia il centro più bello che c'è in Europa dobbiamo ringraziare la lega calcio che ci ha dato questo strumento favoloso perché lavorare in uno strumento del genere in un posto del genere sinceramente la qualità professionale è tutta un'altra cosa. Vi lascio con questo con questa piccola slide con due figure che rappresentano in questo momento un qualcosa per tutto il movimento arbitrale Daniele non c'è bisogno ve lo presenti io l'avete visto al mondiale di recento solo la troverete fra un po' e la conoscerete fra un po' rappresenta un'altra un'altra parte del nostro movimento sappiate che tutti e due hanno la stessa passione per l'arbitraggio sono arbitri alla stessa maniera e decidono la stessa maniera la differenza oggi che hanno loro due sono semplicemente uno che ha 264 partite o 5 partite serie a e sole che ne ha per il momento soltanto una quindi è l'esperienza che fa la differenza ma ognuno di voi che si sta iscrivendo a un corso che sta finendo il corso che è già diventato arbitro ha la possibilità di trovarsi in quelle due foto sta solo a voi e alla vostra voglia di mettervi in discussione per cui io vi auguro veramente il meglio vi faccio un grandissimo in bocca al lupo e come vi ho detto in partenza sappiate che siete di fronte a una nuova esperienza anche per chi è giocato a calcio e per chi sta giocando a calcio farete uno sport che è ben diverso da quello che avete fatto finora per cui divertitevi godetevelo e in bocca al lupo a tutti grazie Gianluca il tuo intervento ha già stimolato diverse domande per esempio Riccardo Ruggeri e te la pongo subito di Cagliari è rimasto colpito degli auricolari e ha detto ma già dai giovanissimi provinciali si possono avere gli auricolari o un po' più avanti? Un po' più avanti noi gli auricolari li concediamo dalla serie C ma non perché non vogliamo darti gli auricolari caro Riccardo perché non ci sono gli auricolari considerate che costano un sacco di soldi e quindi abbiamo lo possiamo utilizzare soltanto nelle categorie di A B e C perché queste categorie le leghe di appartenenza ci danno un grande aiuto un grande supporto e il consiglio che ti do e il suggerimento che ti do è corri veloce in modo da arrivare prima possibile a utilizzarli perché chi lo sa magari in futuro potresti utilizzarli anche in categorie più basse e se lo dice Gianluca Rocchi sicuramente vero grazie Gianluca grazie per il tuo intervento proseguiamo adesso intanto stanno arrivando tantissime domande ma anche alcune fotografie di gruppi degli allievi che si sono riuniti in sezione per vederci per esempio Frosinone e Trapani ci hanno appena inviato le loro fotografie ci stanno seguendo in gruppo grazie a tutti i nostri spettatori